Non ci licenziamo perché non siamo stanchi, non abbiamo voglia di lavorare, ma ci licenziamo perché lavorare in queste condizioni diventa veramente pesante e violento anche nei nostri confronti. Non facciamo più l'urgenza, ormai facciamo tutto. In pronto soccorso ormai abbiamo raggiunto dei livelli inaccettabili, con quello che comporta il rischio di sicurezza per i pazienti e per gli operatori in secondo luogo. Si ha sempre la paura di sbagliare, di non aver terminato qualcosa e di non fare abbastanza. C'è la percezione di non riuscire mai a sopperire i bisogni di salute delle persone che vengono in pronto soccorso. Si sono trovati degli stratagemmi in tante parti d'Italia per andare un po' a coprire questi numeri. Ci sono circa 50-60 persone per ogni pronto soccorso in attesa di ricovero. I pronto soccorsi più affollati a Torino sono il Mauriziano, il Maria Vittoria, il Martini. In questi periodi le punte di pazienti in attesa di ricovero sono intorno ai 40-50. Quelli che invece occupano fisicamente il pronto soccorso, che sono in attesa di essere visitati, magari dimessi, sono anche una novantina. Ci sono dei reparti che sembra essere fuori dal pronto soccorso, ma che in realtà sono ancora dentro il pronto soccorso. Ci sono delle aree che una volta erano del pronto soccorso e che adesso vengono gestite da altri specialisti, ma che in realtà i pazienti sono fisicamente ancora dentro gli spazi del pronto soccorso. Se il personale continua a rimanere iso-resource, con questa modalità che stiamo affrontando, non è più garantito il minimo di assistenza ai pazienti. I pazienti io in un turno riesco a vederli una volta in 8-12 ore e non riesco più a guardarli in faccia, ma perché sono troppi. Un infermiere ha in carico fino a 25 pazienti. Dovremmo avere un rapporto di un infermiere per 6 pazienti. Al momento siamo anche su 1 a 12, 1 a 15. In alcuni casi, se parliamo anche delle medicine, arriviamo anche a numeri superiori. Abbiamo portato nostro figlio più o meno tra le 18 e le 19 al pronto soccorso perché aveva 40 di febbre e ci siamo ritrovati di fronte a una situazione direi abbastanza catastrofica. Le dottoresse ci hanno quindi consigliato di tornare a casa perché dicendo è rischiata addirittura di prendervi qualcos'altro voi, addirittura anche vostro figlio, di peggiorare la situazione. Alla prossima volta porteresti di nuovo tuo figlio al pronto soccorso? No, cioè almeno è l'unico posto dove però uno pensa dove lo porto se sta male e vado lì. Solo che poi se appunto ti dicono, per carità anche gentilmente, sono stati anche abbastanza professionali, poi ti dicono portate via vostro figlio perché rischiate che stia ancora peggio invece di appunto rassicurarti e direte adesso facciamo qualcosa. Quello che secondo me è la cosa peggiore è il trend che stiamo vedendo sempre più importante delle morti in pronto soccorso. Uno si immagina che la morte in pronto soccorso è il classico paziente traumatico, l'infarto, il paziente super acuto che arriva in codice rosso e che poi sfortunatamente muore. Devo dire che in questi ultimi anni la situazione non è più solo questa, per cui ci sono ancora i pazienti gravi in codice rosso, ma quello che noi notiamo è il grande numero di pazienti che ogni giorno muore all'interno del pronto soccorso perché non c'è un altro posto dove poter andare a dare un buon servizio.